TRIP permette anche un altro tipo di ricerca, quella tramite il PICO Quando definiamo il quesito clinico è utile trasformarlo nel PICO TRIP permette di cercare dal PICO selezionando l'opzione PICO I campi sono la P di popolazione, I di intervento, C di confronto o di outcome Il nostro quesito di ricerca è La riabilitazione tradizionale o in acqua della persona con ictus migliora la qualità di vita? Trasformiamolo nel PICO La P di popolazione è il paziente affetto da ictus Quindi scriviamo STROCK La I di intervento è la riabilitazione Quindi scriviamo come prima REABILITATION OR PHYSIOTERAPE con l'asterisco Avevamo individuato questi sinonimi Nella C di comparison aggiungiamo l'intervento che vogliamo confrontare Noi vogliamo confrontare la riabilitazione tradizionale con l'idroterapia Nella C aggiungiamo il termine idroterapia Non è obbligatorio mettere la C Potremmo anche optare per un PIO non mettendo un confronto In questo caso invece proviamo appunto a confrontare la riabilitazione e l'idroterapia Nella OD OUTCOME mettiamo il risultato atteso Opponiamo di voler valutare Se c'è un cambiamento nella qualità di vita Allora come OUTCOME metteremo QUALITY OF LIFE Impostata la ricerca del PICO Clicchiamo su SEARCH per lanciare la ricerca Sono usciti 32 risultati La ricerca PICO è molto specifica Quindi è consigliabile usarla per argomenti dove c'è molto materiale La ricerca PICO è la ricerca PICO